Gruppo Vismare, l'arte del sollevamento al servizio del cliente, visione e concretezza, attitudini da sempre nel DNA di famiglia. Camillo Vismara capisce le nuove necessità di un territorio in crescita. La sua visione è corretta. Ecco i primi agili mezzi di sollevamento. Già leader del mercato, l'azienda offre le prime auto Gru, potenti e flessibili. Le esigenze del mercato crescono. Camillo Vismara offre le giuste soluzioni. L'esperienza porta sicurezza e rapidità. Un servizio attento e personalizzato. 50 anni di competenza e passione per essere punto di riferimento del mercato. Vi invitiamo alla scoperta del nostro mondo. Consulenza e programmazione. I migliori tecnici, formati sul campo e di grande esperienza, permettono la migliore consulenza per ogni problema di sollevamento e un intervento progettuale mirato, preciso ed attento. Niente è lasciato al caso. Un'attenta pianificazione con i più moderni sistemi informatici di simulazione permettono di ottenere dati precisi e affidabili prima di ogni intervento. Razionalità, sicurezza e risparmio. Potenti mezzi all'avanguardia permettono di operare con agilità. sicurezza e di risolvere ogni situazione ordinaria e straordinaria. La manipolazione di macchine e strumenti delicati richiede spesso adeguate e personalizzate soluzioni. VMAG Attualmente la piattaforma di lavoro aereo più performante del cantone Fino a 52 metri di altezza Nessun limite Grande sicurezza ed agilità per ogni operazione in quota La progettazione di servizi integrati unitamente alla potenza di moderni e polivalenti mezzi permettono la movimentazione di macchinari e merci anche in situazioni di spazio limitato Un servizio di assistenza pronto intervento per ogni necessità Il centro mobile è perfettamente attrezzato per ridurre i costi legati ai fermi tecnici E sempre 24 ore su 24 Il centro formazione, realtà consolidata in collaborazione con diverse istituzioni è completo dei moderni strumenti multimediali e permette di tenere gli importanti corsi IPAF destinati alle aziende e ai professionisti che intendono rimanere aggiornati ed operare sempre in sicurezza Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il gruppo Vismara dispone di tutte le moderne tecnologie per una logistica intelligente e razionale come il sistema a cuscini d'aria che permette uno spostamento particolarmente preciso e sicuro anche in presenza di superfici delicate o in ambienti difficili Grazie a tutti! Il parco veicoli del gruppo Vismara frutto di un'attenta valutazione e selezione basata sulla lunga esperienza è molto strutturato ogni mezzo è in grado di coprire tutte le necessità logistiche e di sollevamento Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il potente sistema di cavallette idrauliche in grado di movimentare con estrema precisione macchinari o elementi particolarmente pesanti, complessi e di difficile collocazione Grazie a tutti! 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 Gruppo Vismara Da oltre 50 anni la migliore soluzione per tutte le necessità del mondo della logistica e del sollevamento Grazie a tutti.